Sempre più paesi europei reintroducono temporaneamente i controlli alle frontiere e la Danimarca ha deciso di estendere il provvedimento di altri dieci giorni. Lo spettro della fine della libera circolazione aleggia nell'area Schengen. Ma la prospettiva non è mal vista dal ministro dell'interno tedesco Thomas de Maizière che assieme al ministro svedese della giustizia delle migrazioni Morgan Johansson chiede soluzioni comuni per arginare il flusso dei migranti. Finora il controllo sistematico delle frontiere nell'area Schengen era proibito e chi voleva farlo doveva prima consultare gli altri membri. La proposta della Commissione europea in tema di terrorismo suggerisce che questi controlli sistematici diventino la norma e che si possa fare un'eccezione in certi casi. È un punto importante, lo sosteniamo. La fine della libera circolazione causerebbe aumenti dei prezzi tra l'1 e il 3% e potrebbe costare all'Unione europea fino a 1.400 miliardi di euro nel prossimo decennio pari a circa il 10% del prodotto interno lordo dei 28. Grazie. Grazie.